ha fatto acqua e Matri doppietta per lui era andato vicino anche al pareggio in realtà in precedenza il Palermo con l'iniziativa di Rispoli ma dietro ancora una volta male qui vediamo su un pallone recuperato dal solito Berardi che mette in mezzo Morganella, mia tua, mia tua, chi c'è? Non c'è Gonzales, c'è Ragusa esce il portiere Posavec, fa quello che può, smanaccia, lì c'è Matri 3 a 1 male, male la difesa, bene invece Matri 3 a 1 Sassuolo, Genova